Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale AciNews. Oggi vi porto delle anticipazioni di Terra Mara davvero speciali che ti lasceranno senza dubbio a bocca aperta. Le anticipazioni riguardano un episodio in particolare che vede come protagonista la piccola Ozum. Ci saranno attimi di grande paura per la bimba. Ma prima di continuare se ti va lascia un bel mi piace ed iscriviti al canale. Ripartiamo. La piccola Ozum dopo la morte della mamma verrà adottata da saniglie e rimarrà anche sotto l'ala protettiva di Gaffur. Nonostante le molte attenzioni che danno alla piccola accadrà qualcosa di terribile. Zuleia decide di dare una mano a Gaffur e decide di prendersi cura di Ozum che ancora una volta ha perso la madre. Zuleia ha sempre trattato Ozum come fosse sua figlia e ora come non mai comprende la grande difficoltà che sta attraversando e decide di regalarle una foto che ritrae lei con Gaffur e saniglie. Questo piccolo dono viene molto apprezzato da Ozum che da poco tempo ha appunto subito l'ennesima perdita. Saniglie insieme a Golten sono decedute dopo un violentissimo incidente e tutto questo porta a un trauma abbastanza pesante per Ozum. Dopo la perdita della madre Zuleia ha promesso a Ozum che si sarebbe presa cura di lei come se fosse davvero sua figlia e facendo ogni cosa per fargli superare questo terribile momento. Un giorno Zuleia per farla distrarre porta Ozum a comprare della roba. uscita dal negozio Zuleia incontra Mehmet e si ferma a parlare con lui mentre la piccola Ozum la aspetta dall'altro lato della strada. Ozum ad un tratto decide di attraversare la strada e nel mentre sopraggiunge una moto che investe la piccola Ozum. La bimba ha subito un brutto colpo tanto da farle perdere i sensi. Zuleia e Mehmet la soccorrono immediatamente portandola in ospedale. Zuleia è molto preoccupata per la salute di Ozum e quando Gaffur viene a conoscenza dell'incidente si dispera perché ritiene che capitano tutta la sua famiglia e il suo pensiero di poter perdere anche Ozum lo fa stare molto male perché la piccola è tutta la sua vita dal momento che l'è rimasta solo lei. Dopo qualche ora i medici comunicano che la piccola sta bene e non è in pericolo di vita e perciò molto presto potrà tornare a casa. Gaffur una volta che gli viene comunicata questa bella notizia si tranquillizza. Zuleia e Gaffur erano davvero in crisi per le condizioni della piccola ma per fortuna tutto si risolverà nei migliori dei modi. Il video termina qua. Se ti è piaciuto lasciami un bel mi piace ed iscriviti al canale per non perderti le prossime anticipazioni di Terra Amara. Ci vediamo al prossimo video ciao